Il Palau Broker di Bassano del Grappa ha ospitato un torneo di hockey femminile nel fine settimana. Il Bassano Hockey 1954, infatti, ha organizzato il primo torneo, le 5 Leonesse, a carattere nazionale, interamente dedicato a squadre femminili, composte da giocatrici nate fra 2012 e 2015. Oltre al Bassano Under 13 femminile, erano presenti altre tre squadre, provenienti da Novara, in Piemonte, e dalle città emiliane di Correggio e Scandiano. Lo scopo del torneo era quello di far giocare delle squadre interamente femminili tra di loro. Questo sport, non essendo ancora molto conosciuto e praticato fra le bambine, ha infatti la maggioranza delle squadre femminili che giocano in campionati locali, con squadre formate quasi esclusivamente da maschi. Comunque a Bassano il movimento anno dopo anno sta crescendo. Il settore giovanile ormai conta una ventina di bambine. Il torneo ha visto la partecipazione di quasi 40 giocatrici suddivise fra le quattro squadre. La volontà della società è stata quella di far capire che questo sport è molto adatto anche alle ragazze, soprattutto perché, essendo uno sport di squadra, trasforma i singoli in un gruppo. Il Bassano presentava l'età media più giovane del torneo, che è stato vinto dal Novara, che ha battuto il Correggio nella finalissima. Mentre il Bassano è arrivato terzo, battendo nella finale, terzo-quarto posto, la rotellistica scandianese, dopo una partita molto combattuta e finita ai rigori.